Sono arrivati i cugini merda, noi siamo canaglie che si vincono che si perda, col nostro carico di grande simpatia e di domande in allegria e così merda, eccoli qua, resta con noi e vedrai chi ci sarà. Mi chiamo Paolo e sono Armeno, il mio cognome non lo impara mai nessuno, quindi chiamatemi soltanto Paolo Merda, perché questo è ciò che sono, mi dispiace ma è così. Io sono Luca, la merda intera, se sono in vena rompo la mattina sera, se non lo sono non crediate che sia zitto, che se dorme spacco tutto, mi dispiace ma è così. Insomma siamo i cugini merda, noi siamo canaglie che si vincono che si perda, col nostro carico di grande simpatia e di domande in allegria, i cugini merda eccoli qua, resta con noi e vedrai chi ci sarà. Resta con noi e vedrai chi ci sarà. Io mi ricordo quella volta che abbiamo incontrato Rocco Sifredi, grandissimo attore, ecco io quando ebbi davanti a Rocco Sifredi gli chiesi una cosa, a proposito del suo primo film che si chiamava La Principessa Anale, gli chiesi Rocco cosa ti ricordi di quel film? Non la faccia della principessa. Ah ah ah! No, no, no.